Ciao a tutti, eccoci sul mio canale con un nuovo video. Questa volta voglio parlare del coronavirus e del collegamento secondo me che c'è dal punto di vista spirituale. Perché io credo che qualsiasi cosa accada nella vita abbia una connessione con la spiritualità. E quindi ho analizzato tre punti che secondo me sono quelli fondamentali. C'è quello che dovremmo, ovviamente a mio avviso, dal mio punto di vista, imparare da questa storia. Diciamo che facendo un attimo una premessa molto generale, secondo me siamo arrivati a un punto nell'umanità in cui siamo andati troppo oltre. Ma decisamente troppo. Abbiamo proprio perso la connessione con tutto quello che è importante. con tutto quello che è sano, puro, con la natura. Ormai viviamo sempre tutti di corsa, tutti stressati. Il fatturato è sempre al primo posto. Non abbiamo più... Cioè, quanti di voi magari durante il giorno si fermano, vanno in un parco, prendono anche solo cinque minuti per guardare un albero, per rilassarsi? Non lo fa quasi nessuno, poi specialmente in una realtà come Milano. Quindi penso che un po' siamo andati oltre, perché comunque si ha il contatto con la natura e quello... Le cose semplici sono quelle veramente importanti. Quindi, a parte questa piccola premessa, e anche a livello proprio umano, secondo me, ormai... Abbiamo superato il limite, nel senso che non siamo più capaci di aiutare una persona se è in difficoltà, se vediamo qualcuno che sta male in mezzo alla strada, ho visto io più volte scene di gente che tira dritto. Io stesso ho avuto più volte difficoltà, e sono stata aiutata da persone impensabili, cioè le ultime a cui avrei pensato, no? Quindi, non c'è più fraternità, fratellanza, non c'è più niente di tutto questo. E quindi, partendo dal presupposto, io parlo così, partendo dal presupposto che siamo andati un po' oltre, si è perso il senso della vita, secondo me, proprio completamente. Oltretutto, questa è un'altra piccola parentesi che faccio, non sto ad analizzarla troppo, perché è un po' più complessa, però io, per varie cose che ho studiato, questo sarà un anno molto importante, proprio di evoluzione a livello dell'umanità. Saremo, appunto, portate a superare determinate sfide, determinati limiti, e sarà un anno comunque molto, molto importante. Faccio questo video proprio perché spero possa magari aiutare qualcuno a vedere le cose da un altro punto di vista, e quindi a prendere da quello che può sembrare brutto qualcosa di bello. Quindi, questo è il mio obiettivo per questo video. Quindi, a parte tutte queste premesse, mi direte che cosa c'entra questo col coronavirus. C'entra e come? Allora, partendo dal presupposto che il coronavirus è un'emergenza sanitaria. Quindi, adesso non stiamo a parlare, a discutere sul fatto che se sia stato messo di proposito il virus, non sia stato messo di proposito, non entriamo in questi dettagli, è un'emergenza sanitaria. Quindi, che cosa ha avuto un'emergenza sanitaria come primo effetto devastante a livello mondiale? Il primissimo effetto che ha avuto è stato bloccare l'economia cinese, quindi la produzione cinese di tutte le fabbriche che hanno l'oro. La prima cosa che ho sentito dire, quando è successo questo un paio di mesi fa, e sono arrivati i primi messaggi appunto dalla Cina, ecco, finalmente, almeno smettono, inquinano, dicono, fanno, stanno rovinando il mondo. Però, io dico, come possiamo pensare che siano loro che inquinano il mondo, che hanno queste fabbriche in cui producono giorno e notte, sfruttano i bambini, sfruttano, perché ho sentito dire tutte queste cose. Possono essere vere sì, possono essere vere no, ma loro per chi producono? Cioè, se loro fanno questo tipo di produzione, è perché hanno la richiesta. Quindi, siamo noi stessi i primi a permettere che questo accada, perché comunque siamo noi i primi che viviamo in una società in cui il consumismo è tutto, in cui vogliamo di più e oltre, sempre, sempre, sempre di più, in cui non ci basta più niente. Se loro hanno prodotto così, e secondo me è anche un po' la natura, no, che arriva poi in qualche modo a fermare determinate situazioni, perché comunque quelle fabbriche sono nocive per il mondo, non c'è, cioè, questo è assodato, è sicuro al 100%, però non è che sono loro che producono quelli che stanno rovinando il mondo, siamo anche noi che chiediamo di produrre. Chi ha portato tutta la produzione l'ha tutta chiusa in un punto per produrre molto di più, spendere molto di meno e quindi guadagnare molto di più? L'abbiamo fatto noi per primi. Vabbè, io con i miei bichini non l'ho mai fatto, ma vabbè, comunque, questi sono dettagli, però, esatto, quante fabbriche nel, perché questo è successo più o meno nel 2012, quando io ho aperto l'attività, tutti quanti hanno iniziato a portare fuori dall'Italia la produzione ed è per quello che c'è stata quella enorme crisi economica, perché tantissima gente in Italia ha perso il lavoro, perché le fabbriche hanno chiuso, perché hanno, sono volute andare a produrre in Cina, dove producevano 10 volte di più, spendendo la metà e guadagnando quindi cifre esorbitanti. Quindi abbiamo, tutti quanti noi, abbiamo permesso, io mi metto dentro sempre anch'io, anche se non l'ho fatto in prima persona, perché penso che sia importante imparare a ragionare in un'ottica del, nessuno è perfetto, siamo tutti dentro, tutti responsabili, tutti allo stesso modo, chi più chi meno, tutti contribuiamo a quello che succede nell'intero pianeta, quindi per quello parlo con il noi. Intanto, ovviamente ho fatto tutti i miei appunti, tutta la mia scaletta, con questa bellissima penna che ho preso, della BIC, Geol of City si chiama, però è viola, però è carino, cioè scrive benissimo. E quindi, qual è il primo vero punto importante che secondo me siamo chiamati ad analizzare? Questo, tra virgolette vizio o questa abitudine di incolpare sempre gli altri, perché gli altri sono sempre artefici del male che succede o che ci succede, diamo sempre la colpa agli altri, non siamo mai in grado di chiederci noi che parte abbiamo in tutto questo e che cosa possiamo fare noi per migliorare questo, no, questo non lo sappiamo fare, ho proprio notato che la reazione generale è incolpare gli altri. L'importante è dare la colpa a qualcuno di quello che succede ma una minima domanda che cosa posso aver fatto anche io nel mio piccolo che cosa nel caso potrei cambiare penso che non se la sia fatta nessuno o comunque se la sono fatta in pochi se la sono fatta in pochi quindi questo secondo me è proprio la prima cosa su cui sarebbe bene ragionare perché veramente noi siamo io penso ognuno di noi è parte integrante del mondo non è che se succede un'emergenza a livello mondiale noi noi non c'entriamo siamo di un altro pianeta anche noi viviamo qua anche noi sicuramente abbiamo fatto qualcosa per non dico farla succedere però ci siamo dentro anche noi quindi anziché stare tutto il giorno a incolpare i cinesi perché producono perché fanno perché dicono pensiamo a noi che cosa possiamo fare di diverso non sarebbe male anche perché comunque sia io penso che se ci facessimo appunto la domanda del perché è successo questo la conseguenza qual è stata chiudere le tantissime fabbriche infatti l'inquinamento in Cina si è abbassato drasticamente proprio hanno fatto un servizio spiegando di quanto si sia abbassato l'inquinamento in Cina quindi che cosa possiamo fare noi nel futuro per evitare che ritorni la cosa come prima perché se noi adesso oddio 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 poi fra un anno siamo di nuovo tutte a produrre in Cina non sarà cambiato assolutamente niente quindi iniziamo un pochettino a pensare a cosa possiamo fare noi per cambiare la cosa e non gli altri quindi da un virus io penso si possono arrivare a fare questi determinati ragionamenti perché io penso che sia la natura e la sopravvivenza del mondo che ci vuole far riflettere e dire che cosa state sbagliando se è successa una cosa così qualcosa lo state sbagliando io la vedo così un'altra cosa il secondo punto che secondo me è importantissimo non lo so veramente non pensavo che potessero ancora esistere discorsi di questo tipo e invece sono quelli che sono stati fatti di più in assoluto io penso veramente di non aver sentito quasi nessuno che non ha fatto questo discorso è il razzismo quei maledetti cinesi tutta colpa di cinesi non si devono far vedere qua i cinesi questo quando è partito poi quando è arrivato qua il virus a Milano in Calabria non fate entrare i milanesi li arrestiamo li picchiamo li facciamo in non so dove non fate passare i milanesi quindi il razzismo che noi per primi italiani li abbiamo mandato verso i cinesi è tornato a nostra volta da noi qua in Italia tra una regione e l'altra tra una città e l'altra c'è cose dell'altro mondo secondo me con tutta la sofferenza che migliaia e migliaia e migliaia di persone hanno passato subito e provato migliaia e migliaia e migliaia di anni di storia dell'umanità per il razzismo nel 2020 che dovremmo avere tutte le capacità le possibilità per avere un cervello che ragiona abbiamo la conoscenza abbiamo tutti i mezzi per espandere la nostra mente che cosa facciamo ci abbassiamo un livello così basso da parlare da razzisti per me questa è una cosa inconcepibile inconcepibile no? perché loro mangiano non so quali animali ma anche noi mangiamo la mucca che per altre religioni è una cosa impensabile ma ragazzi non è impensabile secondo me essere razzisti nel 2020 cioè se siamo ancora a questi livelli vuol dire che tutto quello che c'è stato nell'umanità in tutti i secoli dei secoli non è servito a niente ma assolutamente a niente cioè veramente i cinesi hanno problemi a girare per l'Italia oggi come noi in milanese abbiamo problemi ad atterrare in America o a sbarcare dalla cruciera che ci hanno lasciato in mezzo al mare nell'oceano perché non ci vogliono far sbarcare in America ragazzi cioè nel senso io capisco la precauzione c'è se tu arrivi al virus è giusto che non vai ad infettare tutti quanti ma il razzismo a prescindere è impensabile cioè alcuni cinesi che io sappia ma anche alcuni italiani verso altri italiani sono stati picchiati perché vivevano in quel posto cioè io adesso dico ma secondo me dobbiamo veramente farci questa domanda ma veramente nel 2020 succede una tragedia succede un'emergenza succede un'emergenza sanitaria e la risposta è siamo razzisti no tu stai lì non ti avvicinare io maledetto te è il giorno in cui sei nato ma veramente questi sono i discorsi che possiamo pensare di fare nel 2020 cioè io non ho sentito una parola di solidarietà verso nessuno cioè anziché dire poverini guarda che cosa gli è successo guarda che cosa gli è capitato e avremmo dovuto dirlo perché poi è arrivato anche a noi nella stessa identica maniera quindi avremmo dovuto dirlo no tutti quanti hanno pensato soltanto a dire come ha detto i cinesi per quello che mangiano per quello che producono per questo e quell'altro ecco questa è un'altra cosa che secondo me dovrebbe portarci a riflettere e portarci all'evoluzione proprio cioè neanche forse spirituale quanto più mentale non saprei neanche come dirlo perché il razzismo non è accettabile in una società moderna come la nostra dovrebbero essere cose superate da tempo e quindi questa è secondo me la seconda cosa con cui dovremmo confrontarci sempre sulla base di questo virus perché questo virus secondo me ci ha permesso di capire ancora al giorno d'oggi come reagiamo a determinate situazioni capire che non è cambiato niente rispetto a come si reagiva 200 anni fa 300 anni fa 500 anni fa cioè voglio dire non vorrei entrare proprio nel merito ma lasciamo stare non farò esempi di Hitler o qualcosa del genere anche lui odiava semplicemente altre razze diverse dalla sua e noi oggi ci ritroviamo ad odiare i cinesi perché hanno avuto un virus dai non è non è fattibile cioè io veramente spero che chiunque abbia avuto questi tipi di pensieri rifletta un attimo e lo usi come step per iniziare un cambiamento perché è veramente brutto 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 pensare ancora così al giorno d'oggi ma semplicemente per il fatto che tutte le sofferenze che sono state patite in tutti i secoli vuol dire che non sono servite assolutamente a niente e quindi vuol dire che anziché andare avanti stiamo andando indietro questo per me è quello che penso io quindi il terzo punto che invece anche quello pensavo fosse un attimino un po' più insomma gestito bene invece o quanto pare non lo è per niente è la paura ha anche un po' legato all'ignoranza da certi punti di vista ma perché è se è scatenato un panico veramente senza paragoni quando appunto è arrivata la notizia di questo virus nelle prime zone colpite gente che è andata a svaleggiare i supermercati non si è mai capito per quale motivo cioè sono state notizie pubblicate su facebook io dico se uno stato decide di mettere tutto il paese in quarantena e quindi per quello bisognerebbe attivarsi farsi la spesa stare chiusi in casa eccetera eccetera ma come minimo non esisterebbe più una trasmissione alla televisione un film non esisterebbe niente ci sarebbe un annuncio penso continuo perché sarebbe veramente un'emergenza a livelli mai visti in cui dite da domani ci sarà la quarantena andate a farvi la spesa chiudetevi in casa allora se io dico se lo stato se il governo avesse emanato di questi messaggi avrei potuto capire ma il tutto è partito da facebook dai social network dai messaggi che la gente leggeva in giro così senza senso anche dai giornalisti probabilmente perché forse anche loro ci hanno messo dell'oro ma comunque non dalle font perché io non ho sentito lo stato che ha detto chiudetevi in casa fate la spesa per due mesi non uscite più no hanno semplicemente detto evitate luoghi affollati e cosa fa tutta la gente è andata tutta insieme centinaia centinaia tutti nel supermercato lì 3000 ore a fare la fila tutti insieme appassionatamente e questo è evitate luoghi affollati e soprattutto perché una reazione del genere perché farsi prendere così dalla paura e dal panico cioè penso che una delle più grandi va bene l'istinto di sopravvivenza va bene tutto però quello che ci distingue dagli animali io penso che sia l'intelligenza il poter ragionare quindi perché a fronte di un virus che sta dilagando ci comportiamo in questo modo lasciamo i supermercati vuoti e magari c'è veramente qualche vecchietto che non può allontanarsi che non ha modo di andare magari solo quel supermercato sotto casa va giù e non trova neanche un litro di latte e un poco di pasta perché c'è il degenero e la follia generale ma nel senso questo vuol dire vivere basandosi sulle paure vuol dire che le paure vi condizionano al 100% e se l'hanno fatto in questa situazione lo faranno sempre quindi vuol dire vivere suggiogati dalla paura la paura non porta a niente la paura sono limiti che ci auto imponiamo non ci aiutano a migliorare ad evolverci a crescere ci lasciano intrappolati lì dove siamo fermi anche il dietro fare la spesa senza senso sbottare il supermercato senza senso io penso ci sia un significato in tutto quello che facciamo c'è un significato non dico che io ero a Monte Carlo quando è successo tutto questo non dico che nel viaggio di ritorno a un certo momento mi sia venuto anche a me un minimo di panico perché continuavo a ricevere messaggi telefonate a leggere cose ma poi ho detto ma comunque di ufficiale è come se dico ok la paura che ti può venire il panico che ti può venire ma ragiona un attimo c'è qualcosa di ufficiale hanno veramente detto questo l'esse lunga il gigante la Lidl tutti i supermercati di Milano hanno dichiarato che da domani saranno tutti chiusi non si troverà più niente non ci sarà più fornitura nessun supermercato ha detto una cosa del genere tant'è che io sono andata a fare la spesa lunedì pomeriggio il supermercato era tutto pieno non mancava niente hanno rifornito immediatamente quindi dico perché mi devo far prendere dal panico adesso quando il problema non c'è non c'è perché è solo cioè ho capito che su facebook su Instagram hanno iniziato a girare queste foto di supermercati chiusi però voglio dire tutti abbiamo penso un piatto di pasta in casa per poterlo andare a fare due giorni dopo la spesa adesso va bene che proprio era giustificato che proprio completamente non aveva nulla in casa ma anche se noi andiamo tutti insieme in quel momento a sbagliare il supermercato solo perché ci prende la paura non succede niente e quindi anche qua penso che sia una cosa su cui dobbiamo riflettere perché abbiamo reagito facendoci condizionare così tanto dalla paura perché cioè non so non ne vedo io l'unica l'unica cosa che penso è che vuol dire che noi viviamo giornalmente condizionati dalle paure perché io che tendenzialmente le mie paure comunque le affronto sempre cerco sempre di togliermele di capire da dove vengono non non sono stata soprafatta dal panico e dalla paura quindi anche quello sarebbe un veramente secondo me un buono spunto per iniziare a pensare come mai si è reagito così in questa situazione e che cosa si può fare ma per se stessi per uscire da determinate paure e quindi un giocato semplice semplice che si può fare per superare le proprie paure è iniziare da qualcosa di piccolo ovviamente se siete abituati a vivere basandovi sulle paure è normale che in una situazione così estrema la paura va a mille è normalissimo succede a tutti infatti è successo a tantissimi però col senno di poi chi ha reagito in questo modo può dirsi effettivamente io perché ho reagito così guardandovi proprio faccia a faccia nello specchio non dovete dire niente a nessuno non dovete giustificare niente a nessuno dovete parlare con voi stessi dire ma io perché ho reagito così qual è stato il motivo reale qual è stata la notizia che mi ha fatto reagire in questo modo veramente io ho reagito in questo modo creando probabilmente un danno a qualcuno solo perché ho visto qualcosa su facebook e ancora è questo il tipo di persona che io voglio essere secondo me partendo così in base alle risposte che vi date se capite che non sperate di non reagire più così in un'altra occasione di questo tipo sperando non ce ne siano più potete ogni giorno quando vi capita se c'è anche una piccola cosa che vi fa paura che in genere non fareste mai ma che può essere piccola non molto rilevante piccola fatela vi spaventa una cosa non lo so può essere davvero qualsiasi cosa perché alla fine le paure cioè ci sono alcune fobie ad esempio qualcuno ogni volta che esce di casa deve controllare che il gas sia chiuso correttamente dieci volte perché ha questa fissa questa paura che il gas non sia chiuso avete una fissa del genere ok un giorno dite vabbè ciao paura fai quello che vuoi io esco e non ti controllo una stupidaggine è una cosa piccolissima però vi consiglio di provare a farla e così vedrete che man mano la cosa passa ve lo dico non per qualcosa ma perché io veramente spero che questa questa emergenza che c'è stata vi aiuti a riflettere su come ancora reagiamo a determinati impulsi nel 2020 in cui appunto dovrebbe essere un momento in cui siamo evoluti spiritualmente e mentalmente ok quindi la frase fondamentale che vi chiedo in questo video a cui vi chiedo di rispondere in questo video è vivete dominati dalla paura sì o no e se vi rendete conto che è così potete iniziare a fare qualcosa anche di piccolo per per cercare di evitare che questo si replichi altre volte perché veramente questo è stato un tra virgolette un piccolo problema adesso piano piano spero con ovviamente tutte le dovute precauzioni che ci sono del caso che vanno bene che sono giustissime perché comunque se no se non si fermasse un po' la cosa veramente probabilmente molte persone rischierebbero quindi ci stanno le precauzioni tutto quanto però se dovesse succedere qualcosa del genere veramente vogliamo vivere in una società dominata dalla paura questa è la domanda che io voglio porvi voglio sapere cosa ne pensate come avete vissuto voi questo virus che cosa ha fatto scattare dentro di voi come vi siete sentiti perché veramente mi piacerebbe molto confrontarmi con voi su questa cosa spero che questo video possa esservi utile e speriamo che tutto quanto passi si calmi il più presto possibile anche se già un po' si è calmato si è placato va bene vi mando un abbraccio grande a presto a presto